Entra nel vivo la fiera del lavoro JobZone al centro commerciale Gigli di Campi Bisenzio fino all'8 novembre. Una delle novità di questa sesta edizione è la presenza in corte lunga di alcuni robot della Siberdin Robotics Lab che presenta l'aspetto applicativo della tecnologia con strumenti e macchine robotiche che risolvono problemi e migliorano aspetti della vita quotidiana. Darwin Hopp, il robotino mascotte tutto made in Italy interagisce con il pubblico. Oltre a essere un prodotto per università, un prodotto educational, però proietta una visione robotica modulare per un progetto per trovare una soluzione per un cliente in base a un altro robot oppure un'altra piattaforma robotica e avere soluzioni concrete. In queste prospettive di lavoro che offriamo noi è un corso di formazione, corsi di formazione a studenti, laureandi oppure gente curiosa che ha una curiosità mirata a un'evoluzione tecnologica, quindi persone di giune di certi elementi, certe discipline che poi possono ampliare attraverso noi, attraverso i nostri docenti per posti di lavoro concreti.